Siamo con Tiziano Pesce, presidente nazionale WISP, siamo a Roma dall'impianto WISP Fulvio Bernardini. Da ieri, 26 aprile, questa famosa e tanto attesa ripartenza, come la vedi? Una ripartenza che attendevamo, che attendevano tutte le nostre associazioni e società sportive del territorio. Ovviamente è ancora una ripresa graduale, timida, che però dà speranza, dà fiducia per il prossimo futuro. Una ripresa che ovviamente vede ritornare in campo, è proprio il caso di dirlo, soprattutto anche gli sport di contatto, che sono stati fermi mesi e mesi. Abbiamo di fronte a noi la riapertura delle piscine aperte e scoperte il prossimo 15 maggio, la riapertura delle palestre il primo giugno. C'è sicuramente da segnalare, ecco, una attenzione che non è arrivata sull'impianti natatori, sulle piscine coperte, che il decreto non cita e su cui ovviamente, su cui e per cui continuiamo la nostra battaglia di rappresentanza per portare avanti nei confronti del Governo, ma anche del Parlamento, quella che dovrebbe essere una maggiore attenzione. Un altro grande nostro dovere di rappresentanza che stiamo continuando a portare avanti a favore del tessuto associativo di base, che per WISP conta, lo ricordiamo, oltre 16.000 associazioni e società sportive, dati pre-pandemia, che ci vedevano una rete associativa con oltre 1.300.000 tesserati, è il tema proprio del rivendicare le giuste attenzioni, ristori, contributi a fondo perduto. Le società sportive del territorio, dopo mesi e mesi di chiusura, investimenti importanti, si trovano in una condizione veramente pesante, con loro i dirigenti, i tecnici, i lavoratori. Auspichiamo e continueremo a lavorare per questo, che arrivino segnali importanti. In questi giorni è arrivato sicuramente un segnale importante, più di prospettiva. Il Premier Draghi, nella presentazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, in questi giorni ha sottolineato il valore sociale dello sport. Lo sport sociale, lo sport di base, entra a pieno titolo negli impegni del Recovery Plan, e quindi ecco, un bel segnale, proprio anche per un'associazione come la nostra, la WISP, che ha sempre chiesto, continua a chiedere, misure di sostegno per la fase emergenziale, ma anche misure più a lungo respiro per caratterizzare la ripartenza e i prossimi anni, che saranno sicuramente faticosi.